preziosi. Allora, sentiamo tu che idea hai di questo. Intanto che ne siamo usciti, nel senso che oggi ci sarà molto cancana al Senato, senza altro, per carità, come diceva un politico famoso, prenderemo i popcorn e la seguiremo. Però ne siamo usciti perché Gualtieri andrà all'Eurogruppo, dirà ci vuole una logica di pacchetto, l'Eurogruppo farà filtrare che questa logica di pacchetto nei tempi, nel tempo, verrà rispettata. Cioè prima si fa una cosa, insomma si aggiusteranno. Tu vedi tutto... No, non è che vedo tutto rosa, vedo che effettivamente questo governo ha la base, la sua base, nasce a Bruxelles, ha la sua base nel fatto che ha un buon rapporto con l'Europa, anche se l'Europa non ha avuto le varie commissioni europee, non sono state cattive con il governo precedente, in realtà, perché gliel'hanno fatta passare tutte, ma insomma, diciamo, questo è sicuramente la constituency del governo. Roberto Gualtieri era il presidente della Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo, cioè è proprio un uomo dell'Europa, della massima fiducia, diciamo, dell'Unione, massima, massima, dell'Unione, proprio la parte economica, per cui... Cioè tu dici, se va a trottare Gualtieri... Assolutamente, anche perché Gualtieri in commissione poi, tra, diciamo, alcune intemperanze verbali che ha avuto, dando del comico alle opposizioni, che questo effettivamente non è proprio politicissimo, ma nel senso non è proprio furbissimo, però ha detto una cosa importante, la cosa importante è che ha detto che alla fine, dentro questa rimodulazione del MES, c'è la politica come sempre. Quando la Troica all'epoca decise cosa fare, cosa non fare sulla Grecia, più che l'economia valeva la politica, la scelta politica purtroppo di tenere quel memorandum che era lacrime e sanque e non aveva un senso veramente economico, tant'è che la Grecia sta in condizioni non smaglianti, diciamo, ma era la scelta politica di stare dentro politicamente, diciamo, il club del rigore. Quindi così sarà. Noi adesso abbiamo un po' raccontato che un'Europa è un pochino più morbida e... Questo è tutto da vedere, da dimostrare. Esatto, l'abbiamo raccontata così, insomma. Però succederà di nuovo, appunto, una scelta politica. Certo che, secondo me, io non sono così ottimista come i colleghi, secondo me c'è una grandissima malafede, cioè propaganda politica, nelle due forze di governo che stavano al governo lo scorso anno fino all'8 agosto. Il 9 giugno, quando si fa quella relazione al Parlamento, è vero che sono tutti consapevoli del tipo di lavoro che si sta facendo, carta canta, lo racconta, proprio quello che mettono per iscritto, sono consapevoli e sanno anche che cosa... Però posso dirti una cosa. Aspetta, dico solo l'ultima cosa. Non è bello neanche da parte del Presidente del Consiglio che raccontando la storia della centralità del Parlamento, per quale lo ringraziamo molto, poi in realtà mette la discussione del Parlamento l'ultimo giorno utile per partire, poi perché il 10 ci sarà discussione in Parlamento, il 12 e il 13 ci sarà discussione in Europa. Quindi che fai? Se il Parlamento dovesse davvero votare no, che cosa succederebbe? Quindi è un pochino, diciamo... Si arriva proprio all'ultimo seconda. C'è un po' di, anche qui, c'è un po' di superficialità o non proprio buonissima intenzione in questa scelta di tirare i tempi e di mettere il Parlamento di fronte a un ricatto. Ma insomma, che questa vicenda poi avrà una soluzione politica, mi sembra evidente. Quella europea e quella italiana che non finisce qui.